Musica Si conclude questa bellissima giornata di sport qui a Treia con un momento importante per l'Aurora Siamo insieme al presidente Stefano Cegna e al nuovo tecnico Martino Martinelli Allora mister, lei è stato scelto per guidare l'Aurora nella stagione 2023-2024 Come ha ricevuto la chiamata e soprattutto quali sono state le prime sensazioni al momento che ha ricevuto l'incarico? Mi hanno chiamato in settimana Diego, il direttore sportivo, ho avuto un colloquio con il presidente, con tutta la società Vicepresidente e per me è stato subito facile accettare questo incarico perché ho percepito subito tanta passione Tanta ambizione, tanta organizzazione e era quello che cercavo io perché secondo me qui ci stanno tutte le basi per poter far bene Nell'ultima stagione lei è stato sulla panchina della Futura, reduce da una sconfitta nel play-out contro il Corridonia Tanta voglia di riscatto e voglia anche di rimettersi subito in gioco perché come sappiamo il calcio di Martino Martinelli è sempre molto propositivo Il calcio come nella vita, il calcio ti dà, il calcio ti toglie purtroppo è stata una parentesi molto negativa Perché una retrocessione è sempre una cosa brutta calcisticamente parlando Mi dispiace molto per la Futura però si guarda avanti e ho tanto entusiasmo per questa nuova avventura E speriamo di, e ce l'ho meritato tutta per ripagare questa fiducia che mi sento addosso adesso Ha già avuto modo di parlare con i ragazzi? Ma stiamo facendo i colloqui tutte le sere Però quello che deve essere chiaro è che la società è una società forte, seria, ambiziosa Che sa dove vuole arrivare e quindi questo io l'ho percepito e questo stiamo cercando tutti insieme di trasmetterlo ai ragazzi Perché questa è la sacrosanta verità, questa è una società che vuole arrivare, vuole togliersi tante soddisfazioni E sa che con il lavoro, con l'unità di intenti ci si può arrivare quindi sono molto contento e soddisfatto di questo Non ci resta allora che augurarle in bocca al lupo e buon lavoro per la stagione che verrà Crebbi il lupo, grazie Presidente, abbiamo presentato l'allenatore, chiudiamo questa bellissima giornata di festa Quanto è stato bello vedere tutte le società sportive unite qui a Treia nel nome di Leonardo e dei valori dello sport? Sì è stata una giornata importante, una giornata voluta perché Leonardo vive dentro a tutti noi Quindi volevamo fortemente questa intitolazione, l'abbiamo condivisa anche con le altre società di Treia Siamo arrivati a questa giornata di sport e poi a coronazione l'arrivo del presidente Gravina Che sicuramente ha reso questa giornata indimenticabile qui a Treia per chi ama lo sport Parliamo anche un po' del mercato, giocatori che vanno, giocatori che vengono Questa settimana abbiamo salutato alcuni dei protagonisti delle passate stagioni Come si sta muovendo l'Aurora nel mercato estivo? Innanzitutto ringraziamo i ragazzi che sono andati via per la stupenda stagione che ci hanno regalato Qualcuno era anche anni che stava con noi quindi ci ha regalato tante soddisfazioni E come si sta muovendo? Sicuramente stiamo avendo dei contatti con giocatori importanti da portare a Treia Perché vogliamo ancora restare protagonisti in questo campionato di promozione Cercare quando meno di eguagliare il traguardo che abbiamo ottenuto quest'anno dai play-off Quindi l'obiettivo è di mettere insieme una squadra che lotti al vertice per i primi posti Bene, grazie mille Presidente, avremo modo sicuramente di risentirci nel corso dell'estate Io vi saluto ed auguro ad entrambi un grande in bocca al lupo E vi ringraziamo per l'ottimo svolgimento e la manifestazione di oggi Grazie, grazie a te Cristiano Grazie a te Cristiano